spunto il video di fedez insieme ad altri compagni pestare io vino a milano come sappiamo il racconto il vigilantes che vale in tribunale fino a quella di falso ha testimoniato che il rapper è stato il primo a scendere dal van nero e iniziare a pestare io vino è spuntato il video come potete vedere qui sul corriere io per motivi ovvi non ve lo metto qui su youtube perché verrebbe bannato l'istante anche se ripeto non è visibile al cento per cento ma non voglio correre rischi e vi lascio come al solito un telegram in descrizione dove potete vederlo giudicate qui sotto con un commento fatemelo sapere iscrivetevi nel canale e attivate la campanella del notifiche noi ci vediamo ad un prossimo video sempre su lives 91